Eccoli là, eccoli là, in fondo, che ha già lanciato la volata, già lanciato la volata, l'Ustitale Europa, bravo arrivato. E' il Armatov, il prima condizione della CTS. Sicuramente era molto non su bene anni che Pinarello si rimaneva sul lato sinistro della strada. E' il punto di vista, 44, Erman, stai pensando viceversa. Sarebbe da le prime posizioni, Ernest Erman ha la strada della Q33.5, però è di sicuro la vittoria. E' il punto di vista per Romano Ermanova, la strada della CTS. Tanto l'altro, per tutti i lati con questa stessa...